La fine del 2015 porta due notizie importanti per la provincia di Arezzo in tema di viabilità con il riavvio dei lavori della variante di Santa Mama e dell'ultimo lotto della variante della Stata regionale 69 in Valdarno, ad annunciarlo il presidente della provincia Roberto Vasai contestualmente anche ad un quadro della situazione che vede dal 1 gennaio il passaggio di molte competenze alla regione toscana. Ascoltiamo proprio il presidente della provincia. Le novità sono che finalmente siamo riusciti a sbloccare un contenzioso con la CCC legata anche ad un fallimento dell'impresa che aveva l'appalto. Insomma è un bel risultato in tempi abbastanza ragionevoli perché bisogna pensare che lì in quel cantiere come in quello del Valdarno sono due ma lì ben tre imprese sono saltate, no due anzi questa è la terza. Dirlo è facile subentrare ad un appalto con un decreto del tribunale, con una presa di posizione del tribunale sui lavori d'affare, la ricerca delle risorse perché sono strade regionali e non aggiuntive perché c'erano delle riserve enormi da parte delle imprese. Il lavoro che è stato fatto dai tecnici ci ha permesso in tempi secondo me ragionevoli e chi si intende di appalti pubblici vi posso assicurare che è così, insomma ripartire con Santa Mamma e con l'ultimo lotto della 69 perché era la stessa impresa che l'aveva in appalto non fa che essere giudicato positivamente da parte di tutti particolarmente da parte di noi che ci togliamo di mezzo. Io spero prima possibile un lavoro, due lavori che servono alla comunità e servono a tutti noi. Dal primo gennaio ci assesteremo e diventeremo la provincia riformata con compiti limitati, diversi rispetto a prima e i compiti più importanti lo abbiamo detto tante volte sono le strade, tutte i 1400 chilometri di strade regionali e provinciali più gli oltre 60 edifici scolastici della scuola superiore insieme alla programmazione scolastica poi alcune cose che riguardano l'ambiente, un po' di urbanistica ma poco e le pari opportunità insieme a trasporti che rimarranno alla provincia.